Marco Montanari La nostra scarpa è una scarpa che predilige la comodità, la qualità e quindi cerchiamo di dare un prodotto comodo ai ragazzi in modo che la domenica arrivano con i piedi rilassati, pronti per mettersi le scarpe da calcio e fare tanti gol, speriamo La tua dita gestisce anche tante società sportive, non solo a Rimini Noi lavoriamo tantissimo in Italia, abbiamo tantissime collaborazioni, sponsorizziamo tantissimi giocatori La nostra azienda, la mia azienda, è l'azienda leader nel mondo per quanto riguarda il futsal Il futsal per chi non sa il termine tecnico della parola è il calcio a 5 Quindi noi sponsorizziamo dal Napoli calcio a 5, abbiamo oltre 100 giocatori che portano sul nostro prodotto Perché come dicevo prima il nostro prodotto è un nome di qualità, quindi i giocatori credono nel nostro marchio Proprio per questo io ho voluto interagire con Rimini, dato il legame che mi porta comunque a Rimini, mio fratello che è Montanari Infatti lo avrei svelato prima, diciamo che a livello di modi di fare, a livello di fisionomia un po' si capisce C'è una somiglianza particolare con Andrea Montanari ovviamente Non è mio fratello ma è proprio mio gemello, siamo nati in due sacche diverse però siamo proprio gemelli Ok, allora ti possiamo trovare da qualche parte a Rimini così diamo anche delle indicazioni ai nostri spettatori A Rimini siamo presenti da Memphis, siamo presenti da Bellami che sono due nostri venditori E poi proprio abbiamo raggiunto l'accordo questa sera, saremo anche presenti nello store proprio presente dentro lo stadio di Rimini Calcio Quindi il nostro prodotto per qualsiasi cliente che vuol venire, cioè segue la squadra dei Rimini, vuol portare la scarpa che portano i ragazzi Non fai neanche fatica a cercarvi perché siete lì Entri lo stadio a domenica e prima di andare da partita ti vai a comprare un paio di scarpe della Munich Allora mi raccomando, noi vi diamo appuntamento allo store dei Rimini perché siamo uniti anche noi nella società Quindi ci vediamo lì, in tutti i negozi comunque che c'è stato Sono presente anch'io dentro lo store, lo vedete anche a me, quindi se volete conoscere la storia del marchio, sarò lieto di raccontarvela Dai allora ci vediamo allo store e in tutti gli altri posti, grazie Marco Montanari Grazie a voi